A parte del game plan dei Bengals contro i Chiefs consisteva nel tenere costantemente il movimento Jamar Chase sia al momento dello snap sia già prima dello snap tenerlo in posizioni insolite qui lo vediamo nel backfield insieme a un running back, non stiamo parlando di cose da nasa, di cose futuristiche tantissime squadre ormai tengono un ricevitore nel backfield però quando il ricevitore poi è della caratura di Chase le difese devono onorare la sua posizione in campo costantemente vedete che Chase parte in tear motion si chiama a questo momento dal backfield verso l'esterno allo snap quindi tear motion di Chase e arriva poi una corsa ben eseguita da parte di Joe Mixon quindi Chase qui anche se non tocca il pallone in realtà ha un impatto su questo gioco perché? Perché quella che stanno occorrendo i Bengals è una RPO o rampass option questo giocatore, il numero 51 di Chiefs non viene bloccato per un motivo perché lo stiamo leggendo, stiamo leggendo il suo movimento se siamo a borro per capire cosa fare se questo difensore resta largo e potenzialmente può intervenire poi su Chase allora noi la palla la diamo a Mixon al running back che sta sfruttando i blocchi power quindi con questo pull del tackle destro per andare a guadagnare yard contro, e questo è importantissimo, una box molto sguarnita abbiamo 4-5 giocatori immediatamente presenti nella difesa delle corse per quanto riguarda i Chiefs contro 5 bloccanti ecco che la palla allora viene lasciata da borro che compie la lettura giusta ed è questo il motivo per cui Mixon può correre in una partita in cui in realtà i Bengals spesso e volentieri sono stati fermati dalla run defense dei Chiefs grazie a tutti